I campioni arrivano da Adrano, sono davvero molto bravi, poche settimane fa hanno ottenuto dei risultati straordinari in alcune gare e in alcune competizioni agonistiche nazionali. Li presento subito, sono Salvo e Sabrina della palestra Master, facciamo un applauso, grazie a Salvo e Sabrina, musica per voi. Signor e signori, qui sta... Salvo 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 e signori...